Questo video riguarda i migliori tre carrello per la spesa. Il vincitore della qualità è l'Amazon Basics carrello. Trasportare oggetti e rifornimenti è semplice e conveniente grazie al carrello pieghevole di Amazon Basics in stile troli, ideale per salire le scale. Questo carrello pieghevole è ideale per qualsiasi cosa, ad esempio per riporre la spesa o spostare gli scatoloni, questo prodotto è una scelta funzionale per l'uso quotidiano. Grazie alla resistente borsa in poliestere facilmente inseribile e rimovibile, il carrello ti permette di trasportare diversi oggetti senza alcuna preoccupazione. Conserva vestiti, prodotti alimentari, accessori per la fotocamera, strumenti per eventi e molto altro nello spazioso scomparto della borsa. Progettato pensando al comfort e all'accessibilità, il carrello Amazon Basics è dotato di manico ergonomico per il trasporto, di un cavalletto e di due set di triple ruote che permettono all'unità di salire facilmente le scale. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Gini Easy carrello. La sacca di Gini Easy è dotata di una tasca interna per riporre in sicurezza i propri effetti personali durante la spesa. La sacca di Gini Easy è realizzata in poliestere resistente e di facile manutenzione. La sacca lavabile è facilmente rimovibile dalla struttura grazie al sistema Easy Click, caratteristica che semplifica le operazioni di pulizia, nel caso in cui il carrello si sporchi. I parafanghi sulle ruote garantiscono una maggiore protezione da acqua o sporcizia. Le due ruote da 150 mm, realizzate in materiale morbido, si muovono silenziosamente su qualsiasi superficie. Inoltre, due stabili piedini consentono a Gini Easy di rimanere in verticale con una presa sicura al suolo. Durante la spesa, è possibile utilizzare il pratico gancio per appendere Gini Easy al carrello del supermercato. Dopo l'uso può essere comodamente riposto a casa o nel bagagliaio dell'auto. Il vincitore del premio è l'Amazon Basics carrello. Grazie all'ampia capacità di questo carrello da 40 litri, avrai sempre abbastanza spazio per trasportare tutti i tuoi acquisti, oltre ad altri accessori come borse, portafogli e piccoli zaini. Questo carrello presenta una robusta struttura in acciaio inossidabile ed è realizzato in materiale di microfibra e poliestere resistente e impermeabile. Le ruote sono robuste e non si staccano, se non quando è il momento di riporlo. Quando non è in uso, questo carrello è facile da ripore. Le ruote sono retrattili, mentre la struttura e la borsa sono pieghevoli, in modo da occupare meno spazio. In caso di cattivo tempo, la borsa ha una chiusura con cordoncino per proteggere gli acquisti dalla pioggia. Se devi correre per gli acquisti dell'ultimo minuto, la struttura presenta un manico di facile presa che offre anche un maggiore controllo e supporto. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.